Buongiorno, voglio leggervi una mia considerazione su Milano. Milano ha la ricerca a portata di mano, una misura di pensiero smisurata. Cerco il passato nel presente, a volte assente e privo di storia. La solitudine molte conferme tra ricordo e desiderio, fra destino e possibile matrimonio con o senza una possibile donna. Il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele, le diverse librerie tra cui Höppli, eccoti. Ho voglia di vederti, di averti e avvertitamente, logicamente giusto conoscerti. Leonardo al castello sforzesco e pazzesco, il Leonardo mai visto per esserci stato. Geniale sentire la tua voce a richiamo, per dire indirettamente, è, quel Leonardo lì, poche parole pur di condividere tutto ciò che vedo fra libri di copertine sull'anniversario della morte del genio. Tutto ebbene inizio lo scorso anno, cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Da Milano a Firenze, visitando e aspettando di vederti pur lontano a vasto, sono rimasto nella speranza, nel desiderio. Posso fare meglio, se meglio è attendere senza mai pretendere. Giusto il peso è appeso a un filo di speranza, una manciata appena cominciata, fatta di folle poesia. Grazie. 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 Grazie.